Tre serie tv che ho doppiato nel 2022, parte 1! Cominciamo da Non Siamo Più Vivi, dove doppio il bel Lee Suyok. Tra l'altro ho letto sul web che stanno girando la seconda stagione e spero che Lee Suyok ci sia. Proseguiamo con Elite, la famosissima serie spagnola giunta ormai alla sesta edizione, dove doppio Didak. Personaggio molto interessante, il buon Didak. E poi ho fatto un personaggio in una serie storica che è The Walking Dead, dove doppio Elijah, che in questa stagione c'era praticamente sempre, ma era molto taciturno. Ah Elijah, potevi parlare un po' di più, mannaggia a te. E concludiamo con il bonus, ossia un grande bonus, Billy di Stranger Things. Stranger Things è la voce di? Billy. Uno dei miei personaggi preferiti, come direbbe il grande Amadeus. Ma tu hai doppiato tutte le mie serie preferite!